Licenziato a 24 ore dal pensionamento, l'ex numero due dell'FBI Andrew McCabe è stato mandato a casa, sostiene il ministro della giustizia Jeff Sessions per aver fornito notizie ai media e aver mancato di sincerità. McCabe, che ha brevemente guidato l'FBI l'anno scorso quando Trump licenziò il direttore del Borough, James Comey, è stato da subito un bersaglio del presidente che prese di mila le donazioni dei sostenitori di Hillary Clinton alla moglie di McCabe per la campagna elettorale al senatore della Virginia nel 2015. E mentre il capo della Casa Bianca esulta, twittando, è un grande giorno per la democrazia, l'ex numero due dell'FBI attacca. Il licenziamento rienta nella guerra dei presidenti all'FBI e al procuratore speciale per il Lasciagate, Robert Mueller. Il licenziamento rienta nella guerra dei presidenti all'FBI e all'FBI e all'FBI e all'FBI.